Molte altre piante. Ho letto che l'agave, la pianta che cresce nei paesi caldi dell'America, ha largo impiego industriale per la fabbricazione di tessuti grossolani, persacchi, tappeti, cappelli, uso panama, spaghi, gomene e cordami. Perché l'agave è utile all'uomo e molte altre piante gli sono inutili e addirittura sono velenose. Commento. Perché la creatura agave occupa un posto avanzato nel mondo vegetale, per cui inizia ad avvicinarsi ad essere utile, ad amare l'uomo.